sui nostri siti, sui vantaggi che potete avere con riscrizione di occupazione, qualche giorno mi dicevo che anzi io voglio partecipare proprio per creare un futuro non solo a me ma anche agli altri, quindi dare la mia disponibilità, io vivo in campagna, quindi faccio anche io questo affetto a me stesso, volevo soltanto ricordarvi che insieme possiamo veramente stravolgere, non dico cambiare perché è molto difficile, ma creiamo ma stateci vicino in modo che noi insieme possiamo veramente dare tante di quelle risposte che ognuno di voi si aspetta, vi faccio tanti tanti auguri e bocca all'uomo. Siamo un'ordine che sta sul territorio, che sta parte in qualunque parte della nostra regione, da Salerno, Avellino, Penelento, Casecora, negli ultimi comuni della provincia, sull'evalidità e sull'evalidità, questo è dimostrare che noi vogliamo stare a fianco dei collegi giornalisti e abbiamo voluto rimancare l'importanza dei pubblicisti perché molte volte con le leggi che vengono nel nostro ordine siamo pari, abbiamo pari dignità con i problemi professionisti, oggi ci viene riconosciuta anche l'applicazione del contratto, ma non solo ha detto alla... Siamo andati a parlare con il sindaco, continueremo a parlare con le istituzioni, tornare nella sede in vita popolare che sicuramente consentirebbe anche di organizzare meglio queste iniziative, naturalmente tutto quello che ha detto Mimmo, che non è il merito mio, nel mio, sul naso della nazionale sia dall'ordine nazionale e anche con le istituzioni siamo riusciti a lavorare con la regione che finalmente dopo dieci anni, dopo dodici anni ha ricevuto le missioni di Mimmo, voi ricordatevi ad esempio che è una cosa importante... Applausi Sto qua, sto qua, aspetta, vai, fatta, fatta Rettomonia Simonetti non c'è Scroi Scroi Serena Scroi Serena Scroi Dr. Grazie.